E carissimi amici ed amiche buona domenica per il caso di Greta Spreafigo sapete il colpo di scena che c'è stato con l'avviso di garanzia a Andrea Tosi che già era stato interessato in passato da indagini adesso è formalmente accusato di omicidio di occultamento e distruzione di cadavere ho mandato sul canale un video di un anno fa in cui io avevo fatto questa ipotesi cioè da tutti gli elementi che erano circolati tutto quello che era capitato avevo fatto proprio l'ipotesi concreta che a modo mio non poteva esserci che eventualmente la responsabilità di Andrea Tosi poi le cose sono andate diversamente perché in un primo tempo era stata attenzionata era stata inquisita poi era stata scagionata quindi poi le cose hanno preso un altro verso si è parlato per tanto tempo di suicidio di situazioni squilibrate della donna che magari viveva un rapporto poco chiaro con il fidanzato e quindi chissà che cosa era successo e il campanello d'allarme a me era suonato già un anno fa dal fatto che il Tosi sentendo queste queste voci queste dichiarazioni appunto si accodava dicendo sì ma lei quando stavamo insieme in quei giri che avevano fatto per un paio di giorni quando telefonava poi a questo fidanzato poi lei piangeva lei piangeva insomma quindi manifestando una sofferenza che lui voleva in qualche modo collegare collegare in qualche modo con con il fidanzato Lietti Gabriele Lietti poi le cose sono andate ancora avanti e la famiglia insomma ha posto un'accelerazione contro questo fidanzato o ex fidanzato perché non non si non si è capito bene se la situazione era un po' altalenante fra i due però la cioè i fratelli insomma la la mamma insomma la famiglia si è schierata apestamente contro questo fidanzato fiancheggiati insomma anche dall'avvocatessa balzano perché poi ci sono questi avvocati insomma televisivi che assurdo alla notorietà televisiva come sapete anche per il caso di Pierina Paranelli e vabbè comunque era passato in questi ultimi tempi l'idea che fosse questo fidanzato che avesse delle colpe perché perché questa cosa qui perché c'era di mezzo comunque del denaro c'era di mezzo delle proprietà delle grosse proprietà insomma anche tesiere eccetera perché andando a fare una rendicontazione c'erano diverse proprietà perso un notevole valore e di mezzo c'era o c'è o c'era insomma un testamento un testamento che l'ultimo era che greta lasciava quasi tutto al proprio al fidanzato e questo ultimo testamento andava a cancellare a contraddire un testamento precedente con il quale lei lasciava tutto alla famiglia la mamma ai suoi familiari quindi capirete bene che c'era stata multa e c'è molta contestazione insomma in merito all'originalità al fatto che che lei potesse essere lucida oppure con accusa di sconvenzione di incapace insomma una una dialettica che tutto sommato è anche normale quando si si va a parlare di di queste cose qui di interesse quindi era stato un po perso di vista ciò che era potuto capitale perché poi questo capitale dell'iette che si diceva è arrivata la domenica che dice il giorno prima che dice il giorno dopo però fattualmente lui nel nei giorni 3 e 4 di giugno del 2022 lui non era portotolle lui è arrivato ed è arrivato successivamente quindi la possibilità che egli avesse potuto fare qualcosa era remota era remota e poi non si capisce per quale motivo poi lui avesse potuto agire o fare del male a lei visto che comunque aveva avuto con lei l'ultima telefonata e che poi fra le altre cose essendo destinatario di dio un testamento non si sa per quale motivo dovesse agire in questo modo non ci sono state prove di nulla ovviamente però le indagini sono continuate e quindi hanno trovato gli inquirenti queste intercettazioni su questo andrea andrea tosi che questo giardiniere che è sempre stato un tipo particolare aveva passato quei due giorni con greta in giro bevendo mangiando insieme aveva detto delle cose un po strane relativamente ai tanti soldi che aveva visto e specie relativamente all'ultima serata quella del giorno del giorno 3 di giugno dicendo che lei era tornata da sola a casa poi in questa intercettazione è emersa invece che sono andate a casa di lei dice insieme con la sua fidanzata è vero non è vero e poi è emerso in questa intercettazione con la fidanzata che lui abbia ammesso si lo uccisa io ora problema che può essere pure uno l'abbia detto non so in un altro senso nel senso letterale però ci sono altri elementi perché è stata trovata la chiave della macchina secondo me questo è l'elemento proprio fondamentale proprio la prova perché a casa di andrea tosi è stata trovata una copia delle chiavi della macchina della chiavi canto di Greta si preaffigua ecco ora che cosa mi volete dire cosa può dire può dire che che Greta aveva due chiavi di cui una l'ha portata con sé e un'altra l'ha lasciata a casa sua però per forse per mezza volta che è entrata non credo poi lui che cosa ha fatto se l'è conservata gli inquirenti l'hanno trovata in una sempre in una borsa perché venite a volte si dice ma lui perché l'avrebbe dovuta conservata ma l'ha conservata cioè se quella è la chiave e provatamente la chiave della macchina di Greta l'ha conservata nella criminalistica ci stanno queste cose cioè ci sono delle persone che conservano un ricordo delle delle vittime pensiamo ai serial killer che magari ecco ci sta chi conserva una ciocca di capelli che magari qualche qualche cosa non lo so per quale motivo ora queste chiavi stanno lì ma stavano lì a casa di andrea e anche in una maniera conservata che gli inquirenti hanno trovato quindi dovrà dare molte spiegazioni penso che però il corpo non verrà mai trovato così come la macchina perché l'unica spiegazione logica è appunto che lui l'ha uccisa ora non si sa se in maniera preterintenzionale o intenzionale fosse per impossessarsi di quei 10 mila euro che lui sembra avesse visto e poi mettendo il corpo in macchina avrà buttato la macchina con il corpo alla fuci del po poi chissà che fine ha fatto i dubbi su andrea dosi li ho sempre avuti dall'inizio per cui vi ho mandato appunto questo 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 altro video sul canale di oltre un anno fa in cui facevo questa penso una lucida analisi di ciò che era che era capitato e che oggi sembra che effettivamente venga così confermato vedremo gli sviluppi in questa settimana vedremo cosa si dirà per il momento io vi ringrazio vi abbraccio vi invito a condividere con tutti i vostri amici e con tutte le vostre amiche e vi ringrazio sempre del tanto successo che mi tributate grazie buona domenica a tutti quanti voi